ciao a tutti raga qua è santa e oggi vi porto un video che aspettate da parecchio scusate per l'attesa innanzitutto dove comparo paragono due metodi di allenamento che possono risultare identici agli occhi di molte persone e prima lo risultavano anche per me ma in realtà hanno applicazioni leggermente diverse soprattutto in alcune fasi di allenamento di cosa sto parlando sto parlando di rp e contro rir ora se non sapete che cos'è l'rp e nello specifico se non lo conoscete bene questo probabilmente non è il video giusto da guardare vi consiglio di guardare questo che è un video che ho fatto io dove spiego per filo e per segno che cos'è l'rp e da dove viene da chi è stato inventato e come si utilizza nonostante questo non sia il video giusto da guardare darò comunque una piccola rispolverata all'rp e giusto per capire come funziona e il perché appunto viene fatto il paragone tra questi due metodi di allenamento rp e rir l'rp è un metodo di valutazione della fatica percepita che si basa sul numero di ripetizioni in riserva che in teoria noi avremmo alla fine di una determinata serie e ciò ci permette di autoregolare il nostro allenamento per avere una serie infinita di vantaggi per quanto riguarda recupero e performance sul lungo periodo ovviamente come dico anche nel video che vi ho consigliato l'rp non è per tutti soprattutto per i più avanzati che si conoscono molto bene e che appunto hanno anni di esperienza alle spalle ora che cos'è invece il rir rir sta per ripetizioni in riserva e appunto si potrebbe dire che è la stessa identica cosa dell'rp e l'unica differenza è che l'rp e va da una scala dal 7 al 10 mentre il rir va da una scala dal 3 allo 0 però in realtà queste sigle vogliono dire la stessa identica cosa un rp e 7 corrisponde a un rir 3 quindi tre ripetizioni in riserva ipotetiche alla fine della serie e così via fino a arrivare a un rp e 10 che corrisponde a un rir 0 quindi all in 0 ripetizioni in riserva e qui appunto uno potrebbe dirmi beh ma allora sono veramente la stessa identica cosa non c'è alcuna differenza tra l'usare uno e l'usare l'altro non proprio ed è qui che entra in gioco appunto una determinata fase di allenamento che sicuramente chi di voi pratica powerlifting conosce bene e si tratta della fase di intensità fasi di intensificazione e addirittura di picking dove appunto le intensità sono veramente alte con volumi molto molto bassi eccoci arrivati al succo del video scusate se sono stato un po' prolisso ma era necessario fare questa piccola intro se no non si capiva nulla allora si può dire dunque che in fasi di volume quindi intensità medio basse e molte rep l'rp e e il rir sono praticamente la stessa cosa e hanno praticamente la stessa identica funzione e utilità tuttavia come ho già detto quando si parla di fasi di intensificazione o addirittura fase di picking pre gara l'rp e non assume solo un ruolo di interpretazione di quante ripetizioni abbiamo in riserva anche perché tante volte in fasi del genere le ripetizioni in riserva sono veramente veramente poche e soprattutto sono molto difficili da poter appunto interpretare contare l'rp e in questo caso assume anche un ruolo di valutazione della compattezza della tecnica della velocità del bilanciere di un eventuale sticking point cosa che il rir assolutamente non fa adesso vi faccio un esempio mettiamo caso che noi dobbiamo fare una singola rp e 7 in squat come vi ho già detto quando si parla di alzate così intense di fasi di allenamento così intense il calcolo di eventuali ripetizioni in riserva diventa veramente molto difficile e molto fuorviante non conviene neanche ragionare in questi termini di conseguenza come ho detto prima l'rp e assume un ruolo non solo di valutazione delle rap in riserva ma anche di valutazione della tecnica e della velocità del bilanciere in generale di conseguenza la nostra singola rp e 7 non sarà una singola con un peso con qui eventualmente potremmo fare altre tre ripetizioni ma sarà probabilmente da intendere come una singola pulita se così si può dire con una tecnica pulita senza troppi sticking point nel movimento e soprattutto con una buona e costante velocità del bilanciere e qui entrano in gioco le limitazioni grandissime del rir che invece si basa esclusivamente sul numero di ripetizioni in riserva non è fatto per tenere conto appunto di velocità del bilanciere e pulizia della tecnica di conseguenza il rir a questi punti risulta quasi controproducente proprio perché appunto le ripetizioni in riserva durante una fase molto intensa sono troppo difficili da contare bisognerebbe essere veramente degli esperti del proprio corpo a sti punti a mio avviso meglio utilizzare un allenamento basato su percentuali di carico in sostanza questo video vi fa capire come probabilmente utilizzare rp e rir in fasi di allenamento più voluminose non fa alcuna differenza mentre quando si parla di fasi di picking o intensità appunto vi consiglio vivamente di privilegiare l'rp e raga il video è finito spero di non avervi annoiato troppo spero che vi sia piaciuto che vi sia stato utile se così è stato non dimenticate di lasciare un like schiacciare sulla campanella così almeno vi arriva la notifica ogni volta che pubblico un video e ovviamente iscrivetevi al canale e lasciatemi un commento qua sotto ditemi cosa volete vedere nel prossimo video e in generale ogni feedback è ben accetto grazie e arrivederci